wow bello non c'è nessuno grandissimo bella la casa è rita enorme qui bene rita apritemi l'audio con la casa per cortesia rita si piace la casa è il divano blu scusa è una oddio ti senti male che succede michele che succede non lo so come stai che è successo e non lo so non si riprende vuoi fare la respirazione bocca a bocca michele non lo so se è il caso proviamo un po un attimo come non è in casa è una donna stupenda le manovre devo fare le manovre rita come sei respira avanti forza questo sì che si chiama rompere il ghiaccio